Scatterà domattina con il primo turno delle 6 la prima tranche di sciopero del pacchetto complessivo di 56 ore deliberato dall'Assemblea dei Lavoratori del Pastificio Agnesi d'Imperia. Questa prima fase prevede l'astensione dal lavoro per tutti i turni fino alle 6 del mattino di giovedì e per l'intera giornata di domani per quanto riguarda gli impiegati. La scelta non è casuale, in quanto CGL e CISL hanno deciso di dare il via alla prima fase di astensione dal lavoro proprio nel giorno in cui avrebbero dovuto svolgersi dei test connessi allo spostamento della produzione di pasta dallo stabilimento di Imperia a quello di Fossano in provincia di Cuneo. In questo modo per l'intera giornata di domani la produzione resterà invece bloccata. I sindacati chiedono maggiore chiarezza sul futuro dei lavoratori imperiesi e di anticipare l'incontro con i vertici aziendali previsto per la metà di giugno.